Il volerò Casal De Pazzi esulta con le sue nazionali. Francesca Scola e Alice Tanase si sono laureate campionesse d'Europa Under-19 al termine di una finale combattutissima vinta 3-2 in rimonta sulla Russia. Saranno ben 4 le giocatrici del volerò Casal De Pazzi protagoniste ai mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Signores Davide Mazzanti ha inserito Carlotta Gambi, Anna Danesi, Silvia Noacalor ed Elena Pietrini tra le 14 che parteciperanno alla prossima rassegna irritata. Silvia Noacalor ha festeggiato in compagnia dei suoi amici del volerò a cui si sente grata e ancora molto affezionata. Prosegue nel frattempo la preparazione in vista dei campionati. Le squadre Under-16 e Under-18 giocheranno sabato prossimo i primi test amichevoli della stagione. L'Under-18 affronterà alle 16.30 aprilia e a seguire l'Under-16 giocherà contro un'avversaria ancora da individuare. L'appuntamento è all'Euronics Palavollerò.